Il programma di sorveglianza elettronica delle conversazioni di milioni di americani era illegale. Arriva a sette anni dalla rivelazione dei fatti, la sentenza della Corte d'Appello americana che stabilisce che le attività di controllo dei cittadini americani da parte della NSA, la famosa Agenzia di Sicurezza Nazionale, hanno violato le leggi statunitensi. Una grande vittoria per il protagonista della vicenda, un ex agente dell'Agenzia di Intelligence, Edward Snowden. Nel 2013 fu lui, dopo diverse denunce al Comitato Etico della NSA mai preso in considerazione, a divulgare ai media la verità sull'attività di controllo dell'Agenzia. Una denuncia che gli costò l'accusa di spionaggio e la fuga in Russia dove vive tuttora. Snowden inviò a diversi giornali documenti che provavano l'esistenza di un programma segreto chiamato Prisma in grado di raccogliere informazioni su milioni di cittadini americani tramite internet o altri fornitori di servizi elettronici o telefonici. I vertici dell'Agenzia negarono di avere mai raccolto quei dati, affermando di aver lavorato solo per sventare attacchi terroristici agli Stati Uniti e formalizzarono l'accusa di spionaggio verso l'ex dipendente. Oggi, dopo sette anni, la Corte d'Appello ha accusato quei vertici di avere svolto attività incostituzionali in violazione della legge sulla sorveglianza e l'intelligence che prevede speciali autorizzazioni da parte dei giudici per il controllo elettronico di spie o sospetti terroristi in azione sul territorio americano. Non avrei mai immaginato di vedere riconosciuta da una Corte l'attività illegale di quelle persone che hanno colpito me, il commento di Snowden su Twitter, che si sente vendicato dalla sentenza della Corte e che spera di poter presto tornare in patria.